E' permesso? Siamo noi la luce dell'amore Ea, ea! Porta via il buio dal tuo cuore Ciao fratello, siamo Johnson & Johnson Ciao, ciao, guardate, prima che cominciate vi posso fare una domanda Ma solo noi abitiamo nei vostri paraggi Ma noi veniamo sempre qui perché abbiamo preso a cuore voi Si, solo che siamo noi che non abbiamo preso a cuore voi Oh, ma Momon vi aiuterà in tutto questo? Noi veniamo proprio ora dalla nostra chiesa Dicevo, noi veniamo proprio ora dalla nostra chiesa Noi Veniamo proprio ora dalla nostra chiesa E vogliamo parlarvi di cose capaci di fare Momon Ma guardate, ma voi questa cosa ce l'avete già spiegata gli altri giorni, è inutile Ma io invece ritengo sia molto utile perché voi possiate avvicinarvi a Momon e conoscerlo Ebbene, tu ricordi che Gesù alle nozze di Cana trasformò l'acqua in vino e moltiplicò i panni? Sì, non c'era ma me lo ricordo Ebbene, Momon era alla sala ricevimenti lì vicino Perché scusi, c'era una sala ricevimenti vicino alle nozze di Cana C'era il Cana Garden e Momon era lì Mormon era stato invitato al Cana Garden all'altro matrimonio Se tu comprassi i libri di Momon perché nei libri di Momon c'è anche la fotocopia della partecipazione Vabbè, ma andando al sotto, cosa fece Momon? Ebbene, dicevo, quando seppe che Gesù aveva trasformato l'acqua in vino Momon trasformò l'acqua in Brunello di Montalcino Fece altri sette piani alla torta nuziale, moltiplicò le bomboniere Trasformò il pan per focaccia, fece anche il servizio fotografico, fospì Ma a me queste cose non ci interessano però Ma non finisci qui, non finisci qui Tu sa che i ragazzi musulmani durante il periodo del Ramadan non possono mangiare la carne Ti rende conto a quale sacrificio sono costrette queste ragazze? Ma cosa ci possiamo fare noi? Ebbene, Momon, cosa ti chiede in fin dei conti? Soltanto il sabato di non mangiare gli gnocchi Cosasso, secondo te voglio sentire della tua voce, è sacrificio chiedibile questo da Momon Guardate, il sacrificio che non mi devi chiedere, Momon, è che venite voi ogni giorno durante la trasmissione Scusate, guardate, io adesso devo andare avanti, devo fare tante altre cose Scusi, ma quando facciamo il concerto dei canti di Momon? Prossimamente faremo anche questo concerto Va bene, ma almeno canta con noi Eh, canta con voi, basta che bene andare Ok Allora No, no, tutti da solo Come tutto da solo? Tutti da solo, tutti da solo Siamo noi la luce dell'amore Eh, eh Porta via il buio dal tuo cuore Eh, ancora un po' di partecipazione Ma che partecipazione? Randa, piacere, Randa